E' partito con il primo incontro formativo nella sala cenacolo dell'istituto Scalfaro di Catanzaro il progetto Io non ci casco, come riconoscere una fake news, ideato dall'associazione Prima File promosso dal Corecom Calabria. E' stato proprio uno dei componenti del Corecom l'avvocato Frank Mario Santacroce a spiegare le finalità dell'iniziativa, che avrà il compito, ha detto, di sensibilizzare le nuove generazioni su un problema di grande attualità, facendo comprendere ai ragazzi le criticità del sistema informativo e fornendo loro gli strumenti per saper scegliere consapevolmente le notizie vere da quelle che possono essere catalogate come fake news. Santa Croce ha anche ricordato che il Corecom Calabria ha già portato avanti alcuni progetti su altre tematiche molto importanti come il ciberbullismo e la ludopatia, che hanno avuto un'ottima ricaduta sugli studenti coinvolti. Sì, ne parliamo perché il Corecom, tra le varie funzioni che conserva in sé, è anche quella di gestione, governo del sistema di comunicazioni. Nel rapporto con i giornalisti le fake news sono un tema d'attualità. Oggi più che mai il giornalista professionista ha la necessità di andare a comprendere con più difficoltà quale notizia è accreditabile e quale no. Farlo in un contesto come questo scolastico ci mette nelle condizioni di, specie in un istituto come questo di oggi che si occupa anche di tecnologie, di far comprendere ai ragazzi quali sono le criticità del sistema e i metodi per affrontarli. Lo abbiamo fatto in passato con il ciberbullismo, con la ludopatia, oggi lo facciamo con le fake news.